Oh oh, infame, infame scheletro, muori! Ma guardate veramente... Occhio che però qua si... Ma cosa fai? Questo era un antico dungeon, no? Che noi abbiamo riscoperto, abbiamo diciamo modernizzato, civilizzato, però sono rimaste dei pezzi di parete antica, no? Queste pareti qua. Adesso, finita la stanza, prima di attivare tutto, che poi sarà un delirio, moriremo. Tante volte. Ci serviranno, fatemi posare tutta sta roba, ci serviranno due fence, poi tre cartelli, una soul sand, le alghe per fare l'acqua infinita, tre hopper, tre tappeti e sei ceste. Allora, dobbiamo andare a rompere questo blocco qua, questo blocco qua, scavare due qua, questi due qua, e mettere due fence. Ah, ok, uno più in basso. Questa aiuta agli scheletri a andare, uno più in basso, esatto. Poi qua, dopo la fence, andiamo a scavare questo. Qua ci andrà la soul sand, a livello del pavimento, ok? Quindi qua ci mettiamo un pezzettino di soul sand, così, perfetto. Ok. Poi, dopo chiaramente ci andrà l'acqua, e qua ci vanno due cartelli per evitare di far incasinare l'acqua. E intanto metto anche iscriviti al canale. Bravo, mi piace questa cosa. Non è sca-nale. Poi qua invece si deve scavare su, no? Allora, lì dobbiamo scavare 23 blocchi a partire dai due dove sei tu. Quindi uno, questo qua è uno, due, tre e vai avanti. Quindi tu dici da questo qua, di questo qua, conto uno, no? Uno. Uno, sì esatto, lì conti uno. Uno, due e conti tre. Forse era meglio se lo facevo io, perché poi devo sapere come fare la... vabbè. Fai tu, fai tu allora. Tieni. Io però non ho terra. Hai terra? Te la do tutta quella che ho. Comunque, allora, scaviamo 23. Uno, due, torcia, tre. Non ci vedo una ceppa. Aiuto. Sono al buio totale. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ok. Sette, otto, nove. Mettiamo la torcia sul nove. E vado a finire di scavare 23 in questo modo. Oh, sono spawnato in una caverna qua. C'è una caverna qua su. Ah, sì? Sì. Affido. Ragazzi, stavo per contare se erano 23 blocchi d'altezza, ma io sono spawnato in una caverna e sento un rumore di zombie forte, tra l'altro. Aspetta, che adesso non riesco a... Sento un forte rumore di zombie qua. No, vabbè. No, vabbè. Ah, un altro. No, vabbè. Non ci voglio credere. Ragazzi, vi giuro, non è fatto... No, no, ti prego, vieni qua. No, vabbè. E come faccio a venire lì? No, vabbè. Faccio il giro. Aiuto. No, no, no. No, no, no. Aspetta, aspetta, aiutami. Aiutami. Aiuto. Devo arrivare lì adesso. Non so cosa fare. No. Aiuto, aiuto. Aspetta, aspetta che arrivo. Resisti. Eh, resisti. Lei ti tira un buco. Ma scusami, non potevi fare un... Ma dove? Tu non hai idea di come è fatto? No, vabbè, ragazzi, non ci voglio credere. Ma non ci voglio credere a cosa ho trovato e cosa è successo. È un casino arrivare lì su, madonna. Veramente, proprio nel posto più... Secondo me sono quasi lì dove eri tu prima. Eh, sì, sì, li vedo. Vedo tutte le tue cose. Eh, oddio. Mannaggia, raga. Anche questo episodio è andato in vacca. Fantastico. Non è sempre. Stavolta non è colpa nostra, eh. Cioè, nel senso, eh... Ma uno spawner sopra quello di Skeletree? Ma com'è possibile? Dove sei? Eh, ma come si fa? Ah, chiederti. Eh, infatti, hai visto? Hai visto? No, non si può, non si può. Che prima avevo trovato un buco, no? Eh, trovati un buco. Trovatelo il buco. Ma ti rendi conto? Ma che gioco è Minecraft? Che pazzesco, uno spawner sopra lo spawner di Skeletree. Pazzesco, pazzesco. Io vado lì veloce e metto delle torce. Bravo, ecco. Entra e metti torce. Prendi la mia roba. Ho preparato tutto. Bene. Uh, bene. Ma sì, ma praticamente sopra, eh. Sopra? È pazzesco. No, vabbè. Raga, purtroppo non lo sapevo anche perché l'avessi saputo, e non è fatto apposta, perché l'avessi saputo avrei fatto un doppio spawner, ma ormai ho progettato. Comunque cercheremo di fare una stanza in comune dove si attivano tutte e due. Che fai? Questa è la mia spada. Ecco, ma ho anshottato. Porca... Qua sto illuminando tutto. In modo da non avere più problemi di sorta. Dove sei morto? Così che... Ah, qua. No, vabbè, è epico. Epico, raga. Episodio epico. Finito male. Finito malissimo, però è epico. Cosa c'è qua dentro? Uh, un disco. Che schifo. Vabbè. Diamanti. Faremo qualcosa anche con sto spawner. Prossimo episodio, magari li diamiamo. Ho trovato i diamanti. Aspetta che tolgo della lava e prendo i diamanti. No, no, aspetta. Prendiamoli qui quando abbiamo... Non fare cavolate. Hai ragione. Hai ragione, però... Subito a far cavolate. Però sono qui belli da vedere. Cioè, dai, prendiamoli, no? Dicevo, devo fare la controprova qua. Adesso come faccio a fare la controprova qua? Aspetta, aspetta. Dovrebbe essere... Vedi un blocco di terra, lì vicino? Eh, no, non sono più lì. Io sono andato avanti nella grotta. Sei... Essere inutile, proprio. Sì, ma qua ci deve essere un blocco di terra che io ho messo... Eccolo. Ok, perfetto. Quindi dovrebbero essere due. Ragazzi, facciamo la controprova. Due, poi... E 23. Perfetto. Giusto, ci siamo. Non vorrei averne fatto uno in più. Comunque, vabbè, adesso sistemiamo. Adesso, adesso... Devo fare il... Dobbiamo fare il... Metter l'acqua, intanto. Metter l'acqua che va su. Quindi, disastro. Perché devo tornare su. Sono un genio! Potevo rimanere su? Vabbè, vado su di nuovo. Ok, eccomi. Allora, adesso vado a mettere l'acqua qua. Che dovrà essere messa qua, così. Poi vediamo in che direzione. Però la faccio solo così. Metto l'acqua. Ok. Allora, comunque, spettacolo. Proprio qui. Ma non possiamo fare che questi qua cadano direttamente dove cadono anche gli scheletri? Sì, potremmo studiarcela. Potremmo studiarcela. Al prossimo episodio, ragazzi, ce la studiamo bene. Oh, occhio! Che pace! Ci vediamo soltanto gli scheletri che spawnano, ma intanto spawnano anche altre gente. Allora, aspetta, facciamo una cosa. Ecco, togli la terra e poi metto l'acqua. Va bene. Tanto le torcio poi con l'acqua se ne vanno, quindi. Sì, infatti. Ecco. Togliela un po', va che muoio così. Cosa? Non riesco più a togliere la terra. Ma cosa? Togli un po' l'acqua, per favore. Ma cosa? Che acqua? Che acqua? Io sono andato via, io sono dallo spawner. Sì, infatti, vedo. Guarda te, ho visto tutto buio e ho detto, ecco, tu mi hai messo l'acqua. Dimmi quando ci sei che posso mettere, eh. Meno male che siamo in due, da soli è ancora più complicato. Metti. Ok, vado. Metto l'acqua. Adesso ti lancio le alghe. Tu vieni su e metti le alghe. Guardate che lavoro di squadra, raga. Che team. Sì, in pratica sto facendo tutto io. Ma che tutto tu? Oh, ma non lo so. Vai. Messo l'acqua. Tu metti le alghe e vieni su. Che fai? Aspetta che respiro un attimo. Ma che respiri, dai. Vieni su queste alghe, non è lunghissima, eh. Tocca, è già arrivato. Ora, dovrebbe esserci la fonte infinita qua. Infatti non riesco più a salire. Devo togliere anche sto blocco qua. Perfetto. Perché così gli scheletri sono attratti. Non lo so, funziona così. Comunque, adesso devo andare a fare il corridoio che porta gli scheletri, ovviamente, lì, nella stanza dove c'è il vetro. Li fa cadere e noi poi andiamo, ovviamente, a ucciderli. Quindi, Mick, vieni anche tu su, perché io faccio il corridoio, poi tu provi a buttarti e vedere se ti rimane mezzo cuore. Che brutte cose. Dobbiamo andare verso destra, giusto? Perché la stanza col vetro è lì sotto. Proprio sotto lo spawner di... Pazzesco, incredibile. Esatto, esatto. Quindi ci conviene fare... Comunque, dobbiamo fare il corridoio, che però deve essere, direi... Sì, esatto. Lo facciamo a tre di altezza. Qua, uno, due, tre. Perfetto. Io non lo blocchi, quindi... Io, sì. Tieni, aspetta, te ne do. Eh no, che lo lascia giù giù io. Chiudi lì dietro, chiudiamo tutto qua, così. Ok, e andiamo a fare... E tre di altezza, uno, due. Sì. Non vorrei che si incastrassero. Fanno ancora uno più alto, va? Qua, no, però loro arrivano qua. No, no, dovrebbe, no, no, ok, dovrebbe essere giusto così. Vieni dentro. Vieni dentro, che fai lì? Devo chiudere, vieni dentro! Oh! Vieni dentro! Mamma mia, ma ti devo dire le cose, ti devo picchiare, se no non è che... Vieni dentro che tu allora, però. Eh, ho capito, un attimo, stavo mettendo quelli. Chiudi, chiudi qua. Ok, metti la torcia. Dunque, dobbiamo calcolare... Ah, sette blocchi, non ci capisco, cacchio! Ok, sette blocchi, sette blocchi devono andare, devono scorrere sette blocchi. Porca miseria, non capisco niente. Ok, qua, chiudi, ok. Non capisco niente. Cosa fai? Mi diverto. Sette blocchi, quindi, quando l'acqua finisce, praticamente. Perfetto, allora, è facile. Cioè, guarda dove va! Ah, è pazzesco! È pazzesco, viene proprio qua dentro, raga. Perfetto, allora io farò... Qua sarà facile. Farò in modo di far salire gli zombie qua dentro, in modo che poi vediamo come fare. Comunque, adesso, vieni qua, che chiudo. Vieni, entra qua, che devi fare la cavia. Vado a scavare, e tu poi ti butti e vedi se ti rimane mezzo cuore. Non è che sei fatto i calcoli male. Per quello che serve una cavia. Arredici. Tornici. Ah, sono caduto dentro lo spawn. Ma come è possibile? Dici che siamo andati alla parte sbagliata? Da qua dobbiamo andare verso destra, no? Sali un po' su. Sono andati indietro, ma guarda. Oh, senti, ma guarda, che vuoi da me? Mannaggia. Ok, aspetta, raga. Problemino, di qua, dobbiamo andare di qua. Chiudi tutto il corridoio, in modo che non possano uscire, che sai, non vadano in giro. Chiudi bene il corridoio. È già chiuso. E poi ti butti qua. Oh, mamma mia, aspetta che... Quanti ne hai tolti? 23. Sei sicuro? Eh, sto scavando. Potevo toglierne uno in più, non ci ho pensato. Oh, no. Mezzo cuore. Mezzo cuore. Uh, ho avuto paura. Ok, allora, adesso... Io ho avuto più paura, fidati. Dovremmo trovare la stanza che abbiamo scavato, in teoria. Eccola qua. Ok, bravissimo. È più bassa? Dobbiamo alzarlo di due? Aia. Scusa. Io voglio che gli schetti cadano qua per avere questo a livello terra, così. Quindi alziamo l'ascensore di due blocchi. Vai, vedi un po' se... No, che così... Se mi togli il cuore prima, muoio. Ah, giusto, giusto. Lasciami andare con calma. Vai. Buon viaggio. Ma perché? Ma non hai detto che hai messo i blocchi? Li ho messi. E allora? No, adesso sono spawnato chilometri di distanza, perché non ho più dormito. Raga, se non facciamo due, tre vaccate di episodio... Ma è bello, è così. È giusto, è giusto. La stanza deve essere larga 3, perché così non c'è il problema di sovraffollamento. Anche se ne arrivano 40, non muoiono soffocati, quindi perdiamo l'XP. Allora, andiamo a mettere i tre hopper qua. Anzi, mettiamo prima le ceste e le mettiamo così. Una, due e tre. Andiamo a mettere gli hopper dietro le ceste qua, così. Uno, due e tre. Perfetto. E poi ci mettiamo il carpet, così non si fanno male quando atterrano, poverini. E adesso l'ultima cosa da fare è andare a mettere delle slab che non ho. Poi metteremo delle slab un po' carine. Adesso le faccio le prime che mi capitano. Toff, di deepslate va bellissimo. Di cobled, displayed. Deepslate, gobs. Ok, perfetto. Et voilà. Ah, ragazzi, la farm è completa. Adesso tolgo uno slab perché qualcuno dovrà sacrificare. No, in teoria non dovremmo morire dalla caduta, quindi tolgo uno slab. Io mi sono già sacrificato una volta. Qua andiamo a rompere i blocchi dove c'è l'acqua. Quindi questo, questo, è tua. Ciao, Micchè. Ciao. Questo, perfetto. Questo, questo, questo e questo. Voilà. Ora l'acqua dovrebbe scorrere in centro. Yes, perfetto. Scorre, no? Da lì lo vedi? Sì, 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 sì. Bravissimo. Tu guardami da lì. Adesso guardami morire brutalmente perché io adesso devo togliere le torce qua. E va bene. Finché togli quella intorno non è un problema. No, finché tolgo queste va tutto bene. Credo. Il problema è... Uh, devo metterci anche uno slab lì sopra per evitare. Aspetta, fammi mettere lo slab lì sopra. Sarà divertente, sarà divertente. Oh, mamma mia. Non so se voglio farlo. Dai, dai. Allora, fammi togliere tutto qua prima. Vedere che sia tutto a posto prima di fare cose. Sì, sì, è tutto a posto. Qua l'acqua scorre in centro, è tutto a posto? Allora, tolgo la prima. Oddio. 3, 2, 1. Dai, che ce la fai, non muori. Vai, 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 vai. Dai, dai. Non scappa, non scappa. Vai, via, 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 via. Non vedo niente, non vedo niente. Via, via, scappa. Oddio, dove sono? Dove sono? Oddio, non vedo niente. Oddio, sono ancora nella stanza. Non vedo la cippa. Aspetta, aspetta. Che scasso? Oh, iniziano a cadere gente qua. Sono nel corridoio, sono nell'ascensore. Perfetto. Ok. Ah, ah, c'è uno scherzo per me. Vai giù, vai giù, vai giù. Ok, aspetta, devo mangiare, se no muoio. No. Ah, devo mangiare. No, se cado così muoio. Mangia, mangia. Prendi vita, prendi vita. Oh, mamma mia. Dove togliere la torcia anche il corridoio. Oh, cavolo. Ne stanno arrivando alti, ne stanno arrivando alti. Oh, cavolo, no. Ne stanno arrivando alti. Oh, no, 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 no. Sono tipo 5. Va bene. Ciao, amiche. Ah, eccolo. Oh, porca miseria. Era inevitabile, era inevitabile. Vabbè, arrivo, aspetta che... Dobbiamo chiudere, lì c'è un buco, eh. Perché quello è morto? Ma non so, muoiono. Come muoiono? Muoiono tutti. Oh, no. No. Ecco, sono morto pure io per quello. È lo stesso motivo, probabilmente. Io come faccio adesso ad entrare lì dentro? Come faccio? È un suicidio. No. Devo dire che è andato tutto secondo i piani. Allora, abbasso di un blocco. Tanto non mi costa nulla abbassare di un blocco, per sicurezza. Dovrebbe rimanere in mezzo cuore adesso. Vediamo un po'. Sì, perfetto. Ok, fatta. Tocca a te adesso. Io non prendo niente, neanche l'armatura. Vai o no, dai. Vado. Manco chissà che dovessi perdere, oh. Via. Vado dentro, dai. Toglila anche nel corridoio, eh. Come nel corridoio? Ma allora devo rimanere vivo. Certo. Certo, vabbè, ma vuoi morire prima? Scusa, sei proprio scarso. Allora, io adesso muoio perché non ho tutti i cuori, eh. Però muoio. Ma questo è morto perché l'hai colpito. Perché muoiono? L'ho colpito io, l'ho colpito io. Hai tolto le torce su. No, ho di nuovo dimenticato di fare. Non le hai tolte? Non le ho tolte, ho messo di nuovo a più la metà di distanza. Miche, mortacci, tu ne hai lasciata una dentro, torcia. Ma dove è dentro? Ma io non lo so. Ma dentro muove. Dentro, dentro, guardala. No, muoio, no? Ok, devo abbassarlo ancora di uno, va bene. Cioè, quindi poi dopo mi fai ammazzare di nuovo. Sì, ok, fatto. Ho abbassato di due. Quindi adesso non dovrebbero esserci proprio problemi. Perfetto. Oh, qua. Non è difficile, eh. No, senti, mettimi un blocco, va, almeno qua. Ma, scusa, eh. Ho capito che si fa, ma... Mi ho tolto. No, devi riuscire, devi fort... Fortificati. Ma come fa? Non così. Fortificati. No, ce l'avevo fatta. No. No. Senti, io mi puoi mettere un blocco. Dai, ce la fai, credo in te. No. Il trucco non è andare contro... Di principio. Oh, mamma mia, sei proprio... Ciao, ciao. Sei proprio... Ma veramente. Buona fortuna. E mi toglie il blocco, però. Oh, sì, sì, sì. Aspetta. Lo piccone. Adesso ne ammazzano. Ne ammazzano. Eh, ma fallo! Che devi fare? E sto togliendo! Ma guarda a te. Faccio prima a minare con le mani, guarda. E sto facendo col secolo il pantalone. Oh, oh, no! Chiudi, chiudi! 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 Chiudi, non c'è più quel... Devo fare un altro. Prendi un coso! Oddio! Oh, uh! Meno male che sono scemi. Sì, funziona. Oh, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Che dire, episodio productive? Direi. Direi di sì. Molto productive. Guardate gli schietti che arrivano dietro. Vendetta. La vendetta va servita su un piatto freddissimo! Morite, maledetti infami. La vendetta va servita su un piatto freddissimo! Quippo! E gioco mientras etc. Grazie.